Quasi come fossimo impossessati da un'entità sconosciuta, ci ritroviamo ad abbuffarci con i peggio alimenti che l'industria alimentare ci mette a disposizione. Ci promettiamo di non farlo mai più, ma poi come cazzo sia possibile, nessuno lo sa, il giorno dopo ci ritroviamo per l'ennesima volta a scofanarci quella scatola di biscotti che avevamo nascosto all'ultimo piano della dispensa. E come se non bastasse, la parte peggiore deve ancora arrivare, ce ne rendiamo conto quando il senso di colpa si propaga all'interno della nostra anima fino ad arrivare al cuore. Diventa come un orticario, prende sopravvento, ci sentiamo delle merde, ma qui l'unica merde è lo zucchero che volutamente mettono ovunque perché sanno che così come una droga crea una fottuta dipendenza. A questi pezzi di merda che tu soffre come un cane che ti ammali, che muori di una qualunque malattia, non gliene frega niente. Quindi ora, caro amico mio, è il momento di prendere il controllo e questo lo devi fare tu. Guardati allo specchio e ricorda te stesso perché hai iniziato, perché lo stai facendo e proprio lì, nei tuoi occhi, troverai tutte le risposte di cui hai bisogno per rialzarti ancora. E ancora e ancora e ancora.